Inaugurata la nuova residenza universitaria edificio E del campus Calamandrè di Firenze dell'azienda regionale per il diritto allo studio. La struttura ospiterà 122 posti letto pubblici destinati agli studenti universitari che si andranno ad aggiungere agli altri 1692 già presenti nel territorio fiorentino e gestiti dal DSU Toscana. Diritto allo studio, l'università è una peculiarità della Toscana perché le università di Siena, di Pisa, di Firenze sono eccellenze e la regione sta facendo quanto di meglio possa fare per poter offrire condizioni di diritto allo studio. Un altro tassello assolutamente molto importante, devo dire che siamo orgogliosi di questo ennesimo passo in avanti fatto. La regione toscana da sempre mette il diritto allo studio come uno dei pilastri importanti, fondamentali all'interno delle proprie politiche. Un unico grande campus residenziale a servizio degli studenti universitari. Quindi la nostra capacità di offrire posti letto è notevolmente aumentata, così da poter dare di fatto a tutti quelli che ne abbiano bisogno un posto letto in città. Fra l'altro qui in qualche maniera si crea una specie di cittadella universitaria considerando che c'è Careggi, che c'è la facoltà di matematica e abbiamo due fra le più importanti residenze che abbiamo a Firenze. La palazzina è stata costruita facendo attenzione all'efficientamento energetico con isolamento termico e acustico, garantita la connessione internet in ogni stanza oltre alla presenza di Wi-Fi in tutta la struttura. Grazie.